Probabilmente i ragazzi si sono aggrappati e quindi quella ganascia su è scesa per tutta la parte fina del palo fino ad arrivare alla parte più grande e lì si è fermata. Chiaramente tutta la struttura bassa che è sostenuta è andata a terra ed è andata crollata. Il danno più grande l'avete fatto voi stessi perché la distruzione non genera niente di bello e creativo. Siamo convinti invece che dove la forza può distruggere la gentilezza può scolpire. Con queste parole il comitato Vivere il Poderino ha espresso amarezza e svegno nei confronti di chi ha commesso l'ennesimo atto vandalico nel quartiere. Questa volta ad essere preso di mira è stato l'albero di Natale acceso l'8 dicembre scorso in piazza Unità d'Italia con una manifestazione che ha coinvolto gli abitanti, le attività, l'accademia dello spettacolo e gli alunni dell'istituto comprensivo Nuti. Sull'onda dell'impegno che l'associazione sta portando avanti nella formazione di una comunità educante la cerimonia aveva avuto proprio l'obiettivo di illuminare il quartiere favorendo sempre più le relazioni, la conoscenza e la responsabilità di restare accanto ai ragazzi e alle ragazze. Un messaggio che evidentemente non è arrivato a tutti. Emanuela quando è successo e quali sono i danni recati? L'albero è stato spento il giorno di Natale. I danni ovviamente sono quelli recati a tutte le luci, all'abbattimento dei fili e quindi il dover ripristinare di nuovo l'ampiezza dell'albero, riprendere una piattaforma, rimontare tutto. Ma quello che si è spento in realtà sono veramente il gesto vandalico di queste persone che l'hanno voluto spegnere perché noi come comunità, come associazione non siamo spenti, anzi siamo più luminosi di prima. E appunto proprio con la vostra associazione ormai da tempo cercate di organizzare iniziative rivolte ai giovani, rivolte alle famiglie proprio per contrastare questo disagio giovanile, questi atti vandalici. Sì, senza dubbio. Noi insistiamo, per quello ti dico, siamo ancora più accesi di prima e non vogliamo tanto pubblicizzare questo gesto quanto il valore della nostra comunità che è una comunità educante, cerca di esserlo, di stare vicino alle persone che vivono in questo luogo e di prendersene cura. Noi ci siamo presi cura di questo albero che era stato acceso l'8 di dicembre per un gesto di gioia, di condivisione con tutti e appunto era stato anche addobbato da un lavoro fatto dai bambini della scuola dell'infanzia con tante lettere di parole gentili che servono per vivere in una comunità educante. Queste parole gentili saranno proprio il late moment della nostra prossima, prossimo lavoro. Quindi chiunque ha fatto questo gesto non è un protagonista, bensì è la nostra associazione, la nostra comunità che dove riesce ad essere compatta, dove riesce ad essere condivisibile riesce a fare delle cose straordinarie. Vi porto un esempio, il presepe della trave che è un ottimo esempio di come si vive in una comunità, si lavora e si condivide. Ma un messaggio che rinnoverete anche è il primo di gennaio. Sì, l'albero resterà spento nonostante il ripristino delle luci, tutto, però lo terremo spento appositamente. Tutti noi dobbiamo un attimo riflettere sul ruolo degli adulti, sul ruolo dei ragazzi, su tutto quello che siamo noi all'interno e quello che possiamo fare. Il primo gennaio che è l'inizio di un nuovo anno, io mi auguro che qui in questa piazza alle 17.30 vengano tante persone perché riaccenderemo questo albero con la speranza di riaccendere anche i cuori di chi l'ha spento.